Nicolas Holt è un attore inglese divenuto famosissimo grazie ai film stellari di cui è stato protagonista About a Boy, The Weatherman, A Single Man, Scontro tra Titani, X-Men, Warm Bodies ed infine Il Cacciatore di Giganti Hai capito di chi stiamo parlando? Scopri tutte le curiosità su di lui È nato il 7 dicembre 1989 e a soli tre anni è stato scoperto da un regista teatrale Suo padre è un pilota della British Airlines La sua carriera inizia a soli sette anni con la pellicola inglese Relazioni Intime Diventa famosissimo grazie al film About a Boy e alla serie tv Skins È stato fidanzato per quasi due anni con Jennifer Lawrence, protagonista di Hunger Games, che poi l'ha lasciato per Bradley Cooper È il protagonista di Warm Bodies, il film sulla zombie love story appena uscito nei cinema L'attore a cui si ispira è Peter Sellers La cosa che lo imbarazza di più? Vedersi in tv Il suo film preferito è Il Miglio Verde Il suo look preferito? Jeans e t-shirt Se potesse li indosserebbe anche sul red carpet E tu cosa ne pensi di Nicolas Holt? Trovi che sia un bravo attore o più un bel ragazzo?